40 anni fa il terremoto in Irpinia che provocò quasi 3.000 vittime e grande distruzione, la solidarietà trentina si indirizzò verso Balvano, paese della Basilicata, fra i più colpiti. Giorgio Lunelli. Dalle scuole professionali ai gruppi giovanili, dagli aipini alle parrocchie, dai vigili del fuoco volontari e singoli cittadini, centinaia di persone si mobilitarono per realizzare i prefabbricati in legno che furono poi montati a 1.000 km di distanza. 40 anni fa il terremoto di Irpinia è il sisma che mise in ginocchio l'aria tra la campagna e la Basilicata. E la sera del 23 novembre la scossa lunghissima poco dopo le 19.30. Per i trentini quel terremoto assunse ben presto un nome, un riferimento preciso, Balvano. A Balvano, a pochi chilometri dall'epicentro del violento terremoto di ieri sera, si tentano i primi bilanci. I corpi sinora recuperati sono 75. Il cavolo della chiesa uccise 77 persone. 65 erano bambini e ragazzi per i quali non ci fu scampo. Quanti bambini c'erano in chiesa in quel momento? Da una cinquantina in su, minimo. Da i più piccoli di 3-4 anni ai più grandi, 14-15 anni. Quattro anni dopo i Friuli, dove furono gli alpini in prima linea nei soccorsi e nella ricostruzione, Balvano rappresentò per il Trentino la prima esperienza di coordinamento provinciale di protezione civile. Gli oltre 5.000 vigili del fuoco volontari, i tecnici della provincia, gli alpini, i comuni, la diocesi, le associazioni, i volontari. Le immagini raccolte da Sergio Capelletti e quelle del Museo Storico Trentino ci raccontano quell'esperienza, con in prima linea soprattutto i giovani a Trento e a Balvano.